Siamo veramente molto orgogliosi di essere considerati anche in quest'anno un partner privilegiato nella realizzazione di questa manifestazione, per noi estremamente importante, perché l'obiettivo primario di questa manifestazione è quello di sensibilizzare la collettività e soprattutto le giovani generazioni verso il mondo dei mestieri artigianato, che tra l'altro oggi assume una connotazione più qualificante rispetto al passato e può anche garantire delle occupazioni. Opportunità occupazionali, quindi noi ci siamo, questa è una bella manifestazione perché costruisce una rete importante tra il sistema della scuola, le imprese e la collettività, salutando anche con grande favore, a nostro avviso, l'introduzione effettiva del modello ideale di alternanza lavoro-scuola, previsto anche dal nuovo prendistato, quindi noi continueremo a sostenere la provincia in questa iniziativa.